Eccoci tornati a SOS, Arizzo TV, buonasera Beppe Marconi. Nel luoghi della mia infanzia. E di infanzia di tanti mi sa, forse. L'infanzia mia? Sì, tu hai capito, penso anche di tanti tuoi coetani. Di tanti miei coetani che abitavano qui. Che abitavano qui. A Pratantico. A Pratantico, perché siamo sotto il ponte. Di Pratantico, una bellissima opera d'arte, guarda. E' anno fascista. C'è la firma del fascismo. Decimo, quindi siamo decimo, ventuno, non lo so se sia del 31, 32, quegli anni lì è stato costruito. Perché qui c'era il vecchio ponte che corollò con una piana della Chiana. E dopo dieci anni fu costruito questo ponte qui. E' veramente bello, guarda. Si vede che prima c'era il cemento armato e venivano fatte le cose con gusto. Gli architetti, è vero con gusto. Guarda anche, ci sono delle opere, quelle facce di leone mi sembrano che sia. E così via. Insomma, poi fatto con criterio, con sistema. E' veramente un'opera d'arte, è bello. E dobbiamo dare atto che ultimamente la provincia aveva fatto una bella cosa. Aveva fatto ripristino dalla parte superiore delle balaustre che si erano completamente deteriorate. E ha messo le luci di sotto in ogni capitello che legge la balaustra. Ha messo le luci. Però purtroppo... Che succede? Succede che da un po' di tempo a questa parte le luci sono completamente spente. E il ponte è tornato completamente buio. Quindi la notte è tutto buio. Mentre prima passavi con l'auto, era un fascino vedere il ponte illuminato da queste luci piccole, però che davano una luce veramente intensa. Era veramente bello, era veramente affascinante. Purtroppo le luci sono spente da un pezzo. Non capisco perché. Si fanno le opere d'arte, si spendono soldi pubblici per dare un qualcosa di immagine e poi alla fine si rovina tutto perché si lascia lì, è abbandonata a se stesso. Quindi centinaia di miliardi di euro spesi. E' funzionato un anno o due e poi non funziona più se è butta l'aria. Non è così che si gestisce. Le ha messe la provincia e chi dovrebbe mantenerle? Sempre la provincia che però non ha più potere. Non ha più potere adesso, quindi si è centralizzata tutta Firenze. Figura da Firenze di ne fregare il ponte di Pranantico. Purtroppo si tende a centralizzare tutto. Non so però se a livello locale qualcuno ci sarà il responsabile delle strade. Se non c'è più la provincia o qualche altro ente, non è che tutta la Firenze verrà gestita, verrà gestita anche da qui. Insomma, intervenire per far sì che le luci vengano ripristinate e non nascono le piante nel ponte perché come vedi nascono le piante e poi con le radici distruggono il manufatto e svenga mantenuta questa cosa. Altrimenti se no è illogico spendere soldi pubblici. Fu fatto nel 1900, islaugurato nel 1930-1935. Quindi insomma ha i suoi anni ma è stato fatto bene quindi andrebbe valorizzato. E pensa che quando fu fatta l'inaugurazione e durante i lavori venivano gli architetti un po' di tutta Italia a vedere quest'opera perché effettivamente era un'opera d'arte molto molto bella. Tanto qui vicino c'è anche il vecchio ponte. Sì, là sul mio sinistro c'è rimasto tre arcate del vecchio ponte che poi è crollato. E appunto per dieci anni questa strada rimase chiusa al traffico perché non c'era il ponte. E poi? Se fosse successo oggi. Che sarebbe successo? Boh mamma mia, la rivoluzione. È perché è trafficato. Eh, invece allora si passavano da Gianni con i carri e così via. Allora, in mezzo c'era il po'. Ti ricordi quando c'erano i cantiere che si passavano alla volta anni fa? Quante preteste, no? Oh mamma mia. Comunque, l'appello che almeno ritornino le luci poi il resto magari sarà sistemato. Almeno le luci che la notte ci si... Perché sicuramente qui c'è un contatore perché le luci lo paghi comunque anche se le luci non funzionano. Quindi si paga per avere il buio. Bravo, esatto. Quindi è veramente logico. Comunque, dai, da qui sotto il ponte non l'avevamo mai visto. È magnifico. È stata una buona idea del signor Beppe. Bello, è veramente una cosa magnifica questo ponte. Ah sì, veramente bello e speriamo che possa essere visibile anche a chi ci passa quando non c'è più la luce. Ci rivediamo domani. Ciao. Ciao.